Negli studi di TV City l'assessore del Comune di Torre del Greco alla Risorsa Mare, Anna Rita Ottaviano, ieri un incontro istituzionale al Comune di Torre del Greco, guardando all'estate, al monitoraggio delle acque, come è andata? Ieri al Comune sono stati presenti i lagori che ringraziamo per aver accolto il nostro invito e quindi è stato anche un modo per dare il benvenuto al nuovo Consiglio di Amministrazione che si è da poco insediato. Erano presenti l'amministratore delegato, l'ingegnere Vittorio Cuciniello e il vicepresidente, l'avvocato Luigi Mennella, che sono stati accompagnati da una squadra tecnica, oltre per i saluti, per dare anche senso all'incontro che abbiamo posto in essere. Inoltre era presente la Capitaneria di Porto nella persona del Comandante Giovannone. E dalla parte istituzionale, oltre al sindaco e alla consigliera Pomposo, era presente anche il tenente Visciano della Polizia Municipale, proprio per dare seguito a degli incontri successivi che ci saranno sul territorio di Torre del Greco per il controllo del nostro mare. Il senso è quello di creare una sinergia tra tutte le forze coinvolte? Sì, una sinergia per fare in modo che ciascuno di noi non faccia i controlli per il proprio conto, ma bensì una sinergia e un coordinamento delle attività al fine di tutelare il mare e la stagione balneare. Quali sono le priorità più urgenti da affrontare e risolvere? Lo sversamento abusivo nelle nostre acque sicuramente e un monitoraggio costante per far sì per restituire alla città di Torre del Greco un mare pulito. Ovviamente ci vorrà del tempo perché sono iniziati i lavori del collettore che stanno ancora in atto e quindi si spera che per il 2023 siano pronti. Perché diciamo che il comune di Torre del Greco è l'unico comune della costa dove il collettore non è ancora completamente in funzione. Carmela Pomposo, ieri questo importante incontro al comune di Torre del Greco, tanti gli argomenti trattati e gli obiettivi ora da perseguire. L'iniziativa è partita da marzo, quando abbiamo avuto quel problema giù in Litorania, purtroppo un problema veramente che ha creato tanto disagio e da allora abbiamo deciso di lavorare in sinergia con la Capitaneria, con la Gori e appunto con l'amministrazione comunale. Ci siamo prefissati degli appuntamenti ogni mese più o meno per confrontarci e per il da farsi sul nostro territorio. La Gori attraverso un sistema informatico provvederà a monitorare l'episodio che è accaduto a marzo. Per quanto riguarda invece il collettore Foscesarno, i lavori termineranno ad aprile 2023. Il presidente della Gori ci ha detto che comunque attualmente stanno un attimino a rilento, però stanno andando comunque a recupero per altri problemi che si sono avuti comunque per via del Covid, eccetera. Poi per quanto riguarda il collettore, adesso stanno lavorando via terra, quindi da Torra Annunziata, Villa Inglese e così andranno avanti fino a Ercolano. Poi nel 2022 lo lavoreranno via mare. Dunque c'è ancora tanto da fare per avere un mare balneabile? Sì, certamente. Per avere un ottimo risultato è fondamentale lavorare tutti i giorni e confrontarsi continuamente con altre realtà, quale la Gori, quale la Capitaneria, anche i vigili urbani, perché hanno la loro importanza sul territorio per i controlli continuamente. L'incontro di ieri a Palazzo Baronale arriva dopo una serie di iniziative già messe in campo dall'amministrazione comunale. Sì, per la giornata del mare. Quindi siamo partiti con i sebin, con i banner per gli oli e per la raccolta della plastica. Ci saranno altre giornate ovviamente, anche per il prelievo delle reti fantasma. Le cosiddette reti fantasma, le reti stanno sul fundale e che sono pericolosissime e bisogna toglierle a più presto. Poi ci saranno ancora altre giornate dedicate al mare, perché non è soltanto il lato oscuro, quindi delle rete e quant'altro, ma ci saranno anche giornate dedicate ai cittadini, eventi proprio dedicati al mare. La cosiddetta famosa festa del mare che stiamo lavorando per i primi di settembre. La cosiddetta famosa festa del mare che stiamo lavorando per i primi di settembre. Grazie per la visione! Grazie per la visione!